Prevedibile dai su Che cazzo te Napoli Ce lo aspettavamo tutti ma questi Ma uguale uguale alla Roma ieri sera Io faccio fatica a distinguere Il gioco del Napoli Sembrano due squadre fotocopia Gemelle proprio Solo che noi ci abbiamo sfortuna e perdiamo E abbiamo 20 punti di meno pure Tra virgolette o tra parentesi Non è che sto a dire veramente Si chiama ironia Perché poi mi arriva qualche tifosa mia Ma tu stai prendendo me No non sto più a per culo il Milan Non sto più a per culo la squadra mia Ecco ciao Ciao ragazzi ben ritrovati Questi fanno fracche de gol 1-2 Dai e vai tiro gol Pali traversi 4-0 facile facile Manco se c'è stavano i birilli in campo Con tutto rispetto per Cagliari Mamma mia ragazzi Veramente Napoli sono in condizione di forma strepitosa Sicuramente Sicuramente superiore alla Juventus Anche se fino a una decina di giornate fa Era in calo Ti ricordi? Che faceva un po' di fatica E' questo che mi sorprende del Napoli Che ha avuto un periodo di difficoltà Ed è riuscito a superarlo E direi anche abbastanza velocemente Alla grandissima E soprattutto alla grande Quindi questo mi da ancora di più una prova Che è una squadra molto molto solida quest'anno Col tutto che scusate Nell'11 titolare sicuramente E' alla pari della Juventus Ma per quanto riguarda i giocatori I ricambi Non è che ce n'ha poi così tanti No I ricambi non ce n'ha Infatti tutti pensavano che praticamente il Napoli A febbraio sarebbe arrivato Eccolo questo febbraio Sarebbe arrivato A crollare Con le pezze al culo Invece le pezze al culo Le sta a mettere Agli altri Con gli interessi a tutti gli altri Esattamente Perlomeno fino a questo momento La prova del 9 arriverà più in là Quando il Napoli dovrà andare a Torino A giocare contro la Juventus Perché ormai a mio avviso E' quella la partita decisiva per il campionato Anche secondo me Praticamente quando il Napoli Pareggerà una partita Se la Juventus poi dovesse vincere La pareggerà successivamente La rivincerà il Napoli Quindi di conseguenza Faranno un saliscendi al massimo Ma secondo me neanche Te dico la verità Arriveranno allo scontro diretto A fare i punti No 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 Per me arrivano così O con punto sotto Vabbè ma tanto cambia Cambia veramente poco Se vince il Napoli Vincerà lo Scudetto Se vince la Juventus Vincerà lo Scudetto Ce sta poco da fare Questo è quello che penso anche io Ma vorrei sapere da voi Che partita avete visto stasera Credo che abbiate visto Cagliari-Napoli Anche perché non c'erano altre partite In programma E Cioè Alla fine dei fatti Che volevo dire Stavo a pensare Stavo a pensare Al sondaggio in alto a destra Vittoria meritata del Napoli No vabbè Cioè che cazzo Cioè che cazzo Vevo metto a fare È abbastanza inutile È abbastanza inutile ragazzi Che ne so Vi metterò Vi metterò chi vincerà lo Scudetto Ecco Chi vincerà lo Scudetto Voglio sapere da voi Che cosa ne pensate Visto che è la cosa Della quale abbiamo parlato De più Juventus che non ha giocato ieri Io ieri stavo male Ho detto Non farò il post partita Della Juve Perché mi sento male Guarda che tanto letto Nel pensiero No lo sapevano Non farò il post partita Quindi rinviamo Rinviamo la partita Che quando sta meglio Lo farà Giusto Ok Mi pare giusto La par condicio Proprio di quelle Calcisticamente Calciatorum È l'attesa proprio Di quelle prepotenti Ecco Che capelli c'hai Che capelli c'hai Ma che cazzo le so Sarà che stai male Peggio di me Tra tutte e due Io non me reggo in piedi Questo non si regge in piedi Sì La cosa bella È che io Avevo cominciato a sentire meglio Stasera sto peggio che me Mi sento male un'altra volta Mi è successo pure a me Stammattina Che palle Che te devo dire Che coglioni Ce la fai a chiudere Io non ce la faccio Mi sta venendo a rimettere Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Ragazzi Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Ultima nota No ma tanto è finita la partita Manca veramente poco Ultima nota O meglio Statistica Sky ha detto Che il Napoli In media Subisce due tiri Nello specchio A partita Ho detto che il Napoli Quest'anno è solito ragazzi Ha subito mi pare 12 colli in meno Dello scorso anno E t'ho detto 12 punti in più E 12 colli in meno Eh ragazzi miei De che stiamo a parlare Complimenti Veramente complimenti Mamma mia Guarda Vabbè Vabbè